La questione d'autovelox, sono arrivate le prime sentenze e i ricorsi dei suoi assistiti sono stati accolti. Perché? Ma intanto ieri è stato letto il dispositivo della sentenza dal giudice parlato, Eliana Parlato, che ha annullato le multe e ha ovviamente condannato il Comune a pagare le spese legali. Ora la causa è stata chiaramente discussa nella giornata di ieri e è stato ampiamente discusso sia da me che dal collega di Firenze Piccioni che rappresentava il Comune la problematica relativa alla distanza, cioè al famoso chilometro. Il mio ricorso si fonda su tre elementi principali. Il primo elemento è appunto quello che io dissi il 25 settembre quando mi fu prospettata dall'Acumarche e dal dottor Fabio Amici che è il loro esperto e consulente della trasparenza, loro mi chiesero un parere. In quella circostanza io dissi che secondo me quel Velox presentava dei problemi, presentava dei profili di illegittimità. Ora i profili sicuramente sono per chi si immette dallo svincolo di Castelferretti e si immette sulla statale aderiatica perché oggi, a ragione veduta e con prove di fatto, posso dire che i chilometri sono circa 849 e non 1000 come prevede la legge. Il Comune dice che l'articolo 25,2 della legge 120 del 2010 che prescrive il chilometro in realtà non è mai diventato operativo perché nell'articolo è previsto un decreto interministeriale e loro dicono che poiché il decreto non c'è mai stato l'articolo non è valido. E secondo me e secondo anche il giudice parlato sbagliano clamorosamente perché la legge è legge e è diventata immediatamente operativa e la Cassazione con sentenza del 9 dicembre di pochi giorni fa quindi lo ha ribadito. Mentre il decreto ovviamente non modifica la legge, non può modificare la legge ma può solo da parte dei vari ministeri dare delle direttive su come meglio applicare la legge. Ora nel 2017 in realtà il decreto c'è stato anche dal Ministero dei Trasporti ma il Ministero dei Trasporti è stato ampiamente esaustivo sul punto descrivendo come va applicata anche questa legge. ma devo anche dire che c'è la circolare Minniti che ha fatto seguito a quella Maroni che è una circolare che debbo dire molto più stringente rispetto alla Maroni e direi a favore dell'utente della strada. Io intanto voglio sgombrare il campo. Io per sette anni sono stato comandante della Polizia Stradale prima delle Marche e poi del Piemonte e della Valle d'Aosta. Oggi mi dicono sei passato dall'altra parte. No, io non sono passato dall'altra parte. Io sto dalla parte dei cittadini. Il cittadino deve rispettare le leggi. La pubblica amministrazione deve rispettare le leggi e deve fare in modo che queste leggi vengano comprese perché il codice della strada è soprattutto un codice di comportamento. Quindi io non voglio invitare i cittadini, gli utenti della strada ad andare più veloci e quindi più andate veloci e meglio è. No, assolutamente no. Ma le pubbliche amministrazioni, a mio parere, debbono essere una specie di tutori del diritto. devono applicare il diritto e debbono farlo utilizzando bene sia le leggi che le circolari. Poi non ci dimentichiamo che c'è un organo al quale io ho avuto il privilegio di far parte che è la Polizia Stradale che è una specialità unica in Europa. Quindi le pubbliche amministrazioni bene farebbero quando mettono questi dispositivi a controllarsi. Passiamo al secondo elemento. La Cassazione più volte si è espressa e dice il Velox, il Velocar fisso, deve essere visibile. Che significa visibile? L'utente deve riconoscere a distanza il Velocar perché deve rallentare ma non inchiodare. Mettere un Velocar simulato o come nella specie, pur legittimo, pur legittimo, io non dico che il palo dove sta l'attuale Velocar di Falconara è illegittimo, però dico che sicuramente tende a travisare l'utente che vede questo palo e che poi si rende conto di passare davanti a un Velocar, davanti a un velo che fa, frena, e quello dietro ti tampona. Oppure vede il Velocar, quindi passato il Velocar, accelera e va a finire dove? Nel posto, dove? Nel tratto di strada dove c'è maggiore incidentalità. Perché io ho fatto attraverso l'Acumarche, che è l'Associazione di Consumatori e Utenti, che mi ha chiesto di intervenire a tutela degli utenti, e devo dire che oggettivamente quel tratto dalla Polizia Stradale mi è stata mandata una statistica. Nell'anno 2014 gli incidenti sono stati due, nel 2015 tre, nel 2016 tre, nel 2017 uno, nel 2018 zero. Quindi, se deve essere messo quel Velox su un tratto dove c'è una forte incidentalità, la Polizia Stradale lo smentisce. Smentisce l'amministrazione. Ecco, ora, sinceramente, devo anche dire aspettiamo le motivazioni della sentenza, ma di sicuro sarebbe stato bene che quel Velox fosse stato messo in una posizione migliore, intanto rispettando la legge e dando i mille metri all'utente, perché chi entra dall'imbocco di Castelferretti di mille metri non ce l'ha, facendolo vedere, preavvisandolo. La legge non dice che deve essere messo il segnale luminoso, ma perché non mettere il segnale luminoso, perché non avvisare l'utente della strada vai piano, perché se no ti facciamo la multa. Io sono per il rispetto della legge, però purtroppo devo dire che sono passato da sceriffo di Sherwood a Robin Hood perché ho una valanga di... Quante sono infatti le sentenze che ci sono state? Ieri le sentenze sono state diverse a favore delle mie due, però so che c'è stata un'altra collega che rappresenta, peraltro, che è stata incaricata da un altro comitato che ha avuto anche lei queste sentenze accolte. Mentre per altri colleghi che non hanno eccepito il discorso della distanza, il giudice ha legiferato chiaramente contro l'utente e quindi il ricorso non è stato accolto. Quindi per quello fondamentalmente non l'hanno accolto? Perché non hanno presentato il problema della distanza? Cioè il problema di farlo che non c'era la distanza di un chilometro? Allora, siccome stiamo parlando di procedimento, di un ricorso che viene trattato dal giudice di pace, stiamo parlando di un procedimento che è regolato dal rito del lavoro. Quindi se è tardivo il motivo, ovviamente il giudice si attiene al ricorso. Se nel ricorso non viene eccepito da dove è entrato l'utente, se l'utente proviene da Marina di Montemarciano o dall'ABI sicuramente è rispettato il chilometro perché lì addirittura è segnalato a 1.400 metri circa. Quindi voglio dire da quella distanza è regolare. Poi si può discutere sulla visibilità, si può discutere sulla incidentalità, ma quello si discute, si dibatte nel processo, nella causa perché il comune dice il tratto è fortemente incidentato e ci sono stati dei feriti. Sì, grazie, se il tratto me lo consideri per 8 chilometri il tratto è incidentato ma è incidentato in prossimità della caffetteria ma tu comune di Falconara non sei certo competente a mettere il Velox nei pressi della caffetteria dove stiamo parlando di un tratto stradale che è Ancona e quindi sarà casomai il sindaco di Ancona che dovrà valutare se mettere o no un Velox. Io ripeto non sono contrario ai Velocar non sono contrario ai Velox innanzitutto sono per i controlli di prevenzione ma sono soprattutto favorevole a che ci siano più pattuglie sulla strada. Oggi stiamo informatizzando tutto mettiamo le telecamere per proteggere le case e è giusto è un bene mettiamo le telecamere per proteggere i negozi adesso avremo il Natale e quindi è giusto preoccuparsi di mettere diciamo in perfetta efficienza gli allarmi ma è anche più che giusto che un territorio sia presidiato dalle forze dell'ordine e dalle forze diciamo che operano sul territorio che è appunto la polizia municipale che svolge un compito indispensabile relativo alla sicurezza urbana. Ok allora diciamo